Allora vi abbiamo presentato i nostri candidati, vi ricordo che per la prima volta un gruppo parlamentare sceglie le persone per degli incarichi soprattutto così prestigiosi in diretta streaming, vi ricordo ancora una volta la fame che c'è di trasparenza e di conoscenza dei meccanismi delle istituzioni da parte dei nostri concittadini. Volevamo focalizzare su alcuni aspetti del fatto che noi abbiamo compiuto questa scelta di presentare dei nostri candidati autonomi così come abbiamo fatto per la presidenza della Camera e del Senato. La Camera dei Deputati nel 2013 spenderà complessivamente circa 1 miliardo e 300 milioni di euro come budget per il suo funzionamento che sommato al budget del Senato arriva a sfiorare una cifra più o meno pari a 2 miliardi di euro. Ricordo sempre tanto per dare un ordine di grandezza che corrisponde più o meno alla metà dell'IMU prima casa del 2012 tanto per capire il giro di soldi che c'è all'interno di queste sole due istituzioni. Questa montagna di soldi ha tre veri controllori che sono i tre questori e delle altre figure come il vicepresidente e i segretari ma soprattutto i vicepresidenti in questo caso che vanno a sostituire il presidente della Camera che sarà sempre in giro per attività nel mondo, per attività istituzionali. Questi tre deputati questori dare al 5 Stelle una o due di questi ruoli crea molto sgomento. Noi abbiamo letto qualche giorno fa su Repubblica le dichiarazioni al Senato tra Lambertodini e Beppe Pisano. Vorrei fare una citazione letterale. Se i grillini arrivano in commissioni delicate come antimafia e Copasir è un problema e tu lo sai, dice Dini. E come ha risposto Pisano? Se avranno un questore renderanno pubblici i costi di qualsiasi cosa qui dentro, caramelle comprese. Ecco perché noi facciamo tanto paura all'interno dell'ufficio di presidenza.